carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi 27 gennaio leggiamo nell'epistola di giacomo al capitolo 1 leggeremo i versi da 19 fino a 21 è scritto sappiate questo fratelli miei carissimi che ogni uomo sia pronto ad ascoltare lento a parlare lento all'ira perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di dio perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre c'è un invito innanzitutto che viene presentato da parte di giacomo e cioè la prontezza ad ascoltare in un mondo dove tutti vogliono parlare e dove quando qualcuno comincia a parlare c'è sempre qualcun altro che lo interrompe o prova a sovrastarlo con le proprie affermazioni e con toni di voce aggressivi e delle volte arroganti in un mondo dicevo caratterizzato da queste attitudini il cristiano si distingue anche in questo siamo persone che abbiamo imparato ad ascoltare perché ascoltare l'altro ci aiuta a capire i pensieri i bisogni delle volte anche le preoccupazioni che ci sono nella vita e dio ci aiuti a saper ascoltare questo naturalmente a cominciare dalle nostre famiglie saper ascoltare in quanto genitori i bisogni dei nostri figli ma se siamo figli sapere anche ascoltare le indicazioni e le istruzioni sagge che magari ci vengono impartite dai nostri genitori tra marito e moglie è altrettanto importante sapersi ascoltare molti dei dissidi nascono proprio dal fatto che ci si tappa le orecchie dinanzi alle parole del coniuge e ognuno prosegue per la propria strada chi di noi in questo è senza peccato quanti di noi potrebbero dire oh io ho sempre ascoltato e sono stato in questo una persona saggia purtroppo no soprattutto quando ci sono dissidi è inevitabile che ognuno cerchi di gridare le proprie ragioni e di mettere a tacere quello che l'altro ci dice ma il signore ci aiuti ci aiuti ad essere saggi ad essere pronti ad ascoltare e questo vale anche nelle relazioni che ci sono nelle comunità cristiane bisogna saper ascoltare essere pronti ad ascoltare e lenti nel parlare cioè bisogna saper aspettare che l'altro finisca di esprimere le proprie idee e poi dopo aver magari riflettuto e ben ponderato le parole che si stanno per dire cominciare ad esprimere la propria opinione oltre che lenti nel parlare bisogna essere così già come ci consiglia lenti nella nell'ira oggi si è molto istintivi si tende a dar sfogo a tutto quello che passa per la testa e addirittura questo viene presentato come un punto di forza una volta qualcuno mi ha detto che chi non ha carattere non reagisce ma la parola di dio ci dice qualcosa di diverso il vero carattere è di colui che sa esercitare anche l'autocontrollo e quindi sa tenere a freno i propri istinti anche perché l'ira abbiamo letto in questo passo non compie la giustizia di dio perché l'ira umana non è un'ira ragionata non è un'ira che è frutto della riflessione ma che invece è frutto dell'istinto e spesso della rabbia e questo fa sì che agendo nell'ira possiamo andare contro le cose giuste e non è raro che ci capiti di passare magari dalla parte della ragione alla parte del torto perciò ascoltiamo il consiglio di giacomo dio ci dia grazie di essere pronti ad ascoltare lenti nel parlare lenti all'ira sapendo che l'ira nostra non compie la giustizia di dio il signore ci aiuti a deporre ogni impurità e residuo di malizia perché poi anche in relazione alla parola di dio è importante saper ascoltare essere lenti nel parlare e non lasciarsi prendere dall'ira sì perché se noi deponiamo impurità e malizia noi riceveremo con dolcezza la parola che è stata piantata in noi quando il signore parla e qui mi riferisco non solo alla lettura della parola di dio ma anche alle riunioni cristiane nelle quali magari tramite uno studio biblico una testimonianza tramite una parola di esaltazione tramite la predicazione della parola di dio il signore rivolge un messaggio alla nostra vita dio ci dia grazie di saper ascoltare e non essere sempre pronti ad accusare chi ci sta parlando delle volte ci verrà da dire parli proprio tu o da che pulpito viene la predica e certo chi ci esorta chi ci parla non è perfetto e nessuno di noi è perfetto ma ciò non toglie il diritto al signore di servisse anche di un'asina e qui mi riferisco all'episodio dell'antico testamento con balam ciò non toglie il diritto al signore di servisse anche di un'asina per parlare ai nostri cuori e allora non guardiamo al messaggero guardiamo al messaggio riflettiamo su quello che ci viene detto se è una parola giusta magari una parola che ci ferisce ma giusta applichiamola alla nostra vita ascoltiamola così come si deve ascoltare la parola di dio e permettiamo al signore di poter modellare il nostro vaso e di poter correggere eventualmente i nostri passi in modo tale che quella parola possa diventare un seme che viene piantato nel nostro cuore e porta frutto per la gloria di dio quante volte leggendo la parola del signore anziché ascoltarla siamo pronti a parlare e a dire questo verso questo messaggio questa predicazione per un fratello per una sorella che magari in quel momento ci viene per la testa ma è proprio così non è magari che in certe circostanze dio sta proprio parlando ai nostri cuori non è che magari in certe circostanze i nostri occhi sono talmente chiusi alle realtà spirituali che anziché vedere la trave che nel nostro occhio subito scorgiamo la pallugliuzza che nell'occhio altrui dio ci ria grazia di saper ascoltare soprattutto quando ci troviamo dinanzi alla parola di dio ma anche nelle relazioni che abbiamo in famiglia nella società e nelle comunità cristiane allora la nostra vita sarà benedetta e l'opera del signore potrà prosperare in ciascuno di noi che dio ci accompagni ancora oggi e che in questo nuovo giorno ci ria grazia di essere pronti ad ascoltare lenti nel parlare e lenti all'ira pace del signore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti